Con la mezzanotte sono scoccate le coreografie in cielo dei fuochi d'artificio, momento propizio per scambiarsi gli auguri. Sassoli ha richiamato il dovere dell'andare al di là delle storiche divisioni in tema di politica estera. Reggio vuole accogliere come si deve alla Ferrari. L'appuntamento è martedì al Teatro Valli. Alle 18.30 avrà inizio la cerimonia. Non si riguarda anche la nostra provincia. La nostra struttura sanitaria sta reggendo una situazione molto impegnativa. È difficile pensare che si possa nelle prossime settimane fare cose che siamo abituati a fare nella nostra vita privata. Tornerà il giorno in cui potremo ritornare nei nostri parchi, potremo rivivere le nostre manifestazioni, potremo ricominciare a girare, a viaggiare, a frequentare gli amici. Oggi non è quel giorno. L'orchestra suona in una Reggio Emilia deserta. La musica viaggia dalle piazze alla rete. C'è una cosa che vorrei sottolineare e cioè quel principio di responsabilità individuale, collettiva, di autodisciplina che ci ha consentito di affrontare al meglio le settimane che abbiamo alle spalle. State facendo esattamente quello che c'è da fare per affrontare, debellare, e di sradicare questo virus dalle nostre comunità. Domani inizia la fase 2. Affronteremo un percorso nelle prossime settimane di progressive, graduali riaperture. Atto numero 1 della scuola post-covid. Era tantissimo che non la si vedeva, sette mesi, e pur con tutte le difficoltà del caso, sicuramente da speranza. Accendiamo l'albero, accendiamo le luci della nostra città, in vista delle festività natalizie, un messaggio anche di fiducia e di speranza in un momento così impegnativo e così anche complicato, non soltanto per Reggio Emilia ma per l'Italia intera. Buon Natale a tutti!